5 anni di mancate risposte e occasioni perse dalla giunta a Fedriga. E' così che il consigliere regionale del PD Roberto Cosolini vara la campagna elettorale aprendo le danze sul tema Principe del Friuli Venezia Giulia, la sanità. Un comparto malato sostiene il già sindaco di Trieste per cui dobbiamo lavorare alla sua guarigione. Quello che ci caratterizza è che qui le criticità vengono sempre accantonate, la polvere viene messa sotto il tappeto, prendiamo anche l'ultimo studio, le Gimbe, su come la regione ha affrontato l'emergenza pandemica. Si cita solo un dato che è positivo, quello dell'efficacia nella campagna di tamponi e si nascondono tutte le criticità, ad esempio la gestione delle terapie intensive e la mortalità che nel 2021 vede il Friuli Venezia Giulia come regione col più alto tasso di mortalità in assoluto. L'incontro dell'esponente DEM è stato supportato dalla presenza di due sindacalisti e professionisti del settore medico, il segretario regionale del sindacato medici italiani Lorenzo Cucciani e il presidente regionale dell'associazione anestesisti, rianimatori e ospedalieri italiani Alberto Peratoner. Il personale è stanco ed è motivato, non trova degli incentivi non solo economici ma anche nella qualità di lavoro e di vita all'interno delle aziende per cui c'è la tendenza a scappare. Di riflesso il sistema come risponde? Risponde appaltando al privato e questa è l'altra criticità grave per cui i professionisti sono incentivati ad andare nel privato dove hanno stipendi più alti, dove hanno maggior libertà di scegliersi, di lavorare in quali turni, in quali situazioni, facendo addirittura i professionisti con la valigia, passando da un ospedale all'altro, da una regione all'altra, ormai l'emigrazione di questi professionisti è un problema veramente chiaro e lampante, e di fatto però andando a incidere negativamente sulla qualità del servizio offerto.